Lo stadio Gianni Moscardini di Barga ha ospitato domenica scorsa con l'organizzazione del Volley Barga una coloratissima quanto davvero bella festa della palla a volo, con il ritrovo delle formazioni under 12 che partecipano ai campionati del raggruppamento Lucca Pistoia e Massa Carrara. Una grande festa finale per festeggiare la chiusura dei campionati, dove soprattutto l'idea e l'obiettivo è stata anche quest'anno quella di trascorrere delle ore all'insegna dello sport e del divertimento e che si è svolta per il secondo anno a Barga. Il Comitato Territoriale Appenino Toscano ci ha conferito per il secondo anno l'incarico di realizzare la manifestazione 23 squadre partecipanti, rappresentative delle province di Massa Pistoia e Lucca del campionato under 12 dopo la fase invernale in palestra hanno deciso di svolgere qui all'aperto una festa finale abbiamo radunato 23 squadre con 500 persone. Per la cronaca, alla fine di un'intensa giornata, apertasi in mattinata e proseguita fino a tutto il pomeriggio a vincere il torneo è stata la Ienco Volley School di Viareggio, secondo posto per la squadra bianca del Nottolini terza posizione per il Blue Volley Quarrata e quarto posto per Mille Luci. In tutto, le squadre partecipanti al torneo, ricapitolando, sono state 23 per oltre 230 atleti ed un totale di 550 partecipanti tra squadre e familiari.